Ciao a tutti amicici, eccoci qui e ricominciamo la nostra serie di video sul gaming mobile. In questo caso siamo passati dopo aver fatto una panoramica di tutto quello che c'era stato nel 2020 direttamente al 2021. Un anno strano e particolare, caratterizzato, lo sapete meglio di me, cosa è successo e cosa sta succedendo e anche dalle conseguenze dell'emergenza pandemica che ha creato uno shortage di componentistica hardware. Questo ha fatto sì che nascessero anche tutta una serie di difficoltà nel reperire hardware e tutto il resto. Ma nelle difficoltà ci sono anche delle aziende come la cara Xiaomi che sa destreggersi bene e così, spinto dal video entusiastico di Issam, ho deciso che quest'anno avrei voluto risparmiare un pochettino anche perché il prezzo del ROG Phone 5, soprattutto nella versione top, è veramente salito alle stelle, parliamo di 1300€ e così mi sono fatto convincere a provare questo, il Black Shark 4 di Xiaomi. Anche perché poi, con pochi altri soldini, volevo provare lo Snapdragon 888 e nel frattempo ho preso anche questo, il Red Magic 6 Pro, a cui però dedicheremo magari più in là un altro video, perché oggi voglio parlarvi di questo. Un gaming phone particolare, diverso dagli altri innanzitutto, perché sono scomparsi i LED, sono scomparse il metallo e le forme particolarmente aggressive che Xiaomi utilizzava. Scusate, qua c'è il coso della SIM, però vi fa capire che c'è comunque questo effetto X sul retro che è di plastica, mentre il frame è in metallo. Questo telefono è una rivoluzione, anche se qualcuno avrà storto il naso per vari motivi. Primo punto per storcere il naso rispetto agli altri gaming phone, e effettivamente questo telefono non è di metallo e non ha i LED. Non ha i LED, si vede la S, si vedono questi bei giochi di luce, ma niente LED. Seconda cosa, ecco mi ha già riconosciuto, vedete? C'ha il punch hole. Non voglio sapere che tempo fa domani, stai calmo. Terza cosa, apriamo CPU-Z e vi faccio vedere una cosetta. Questo telefono non ha lo Snapdragon 888, ma l'870. Una versione rivista a 7nm dell'865+. Quindi una Crivo 585 con l'Adreno 650 di scheda video. Ma grazie alla, diciamo, questi sono i contro, quindi non è senza dubbio il processore più potente. Il processore più potente Xiaomi lo monta sul, rimettiamo la cover, lo monta sulla versione Pro di questo telefono, che però non è stata importata in Italia, probabilmente perché non ha senso quest'anno. Nel senso che la vera versione da comprare di questo smartphone è questa. Perché? Perché questo telefono, grazie a una serie di, premetto, questo è la versione 828, ma è uno smartphone da gaming a tutti gli effetti. E poi guardate qua, guardate cosa c'ha qua. Se io faccio così... C'ha dei tastini, dei tasti funzione che possono sia funzionare per fare delle funzioni, diciamo, extra game, sia in game. Quindi non ha un normale tasto di quelli soft touch, ha un tasto vero e proprio che vi può aiutare nelle fasi di gaming. Inoltre, grazie alla importanza della personalizzazione... Ok. Apriamo i nostri... Ogni applicazione, grazie all'ottimizzazione di Sharkspace... Sono tante le applicazioni... Ecco qua. Prendiamo Antutu, così vi faccio capire perché è importante. No, così l'ho fatto partire. Chiudiamolo. Ecco, se io vado in configurazione, io da qui, dentro alle loro possibilità, posso andare a modificare quella che è la potenza da dedicare. Fino alla maturità ludicrous esagerata per le massime prestazioni. Quindi, uno Snapdragon 870 con un 828, se io riesco a portarlo al massimo, riesce a sfruttare quasi 670.000 punti. Quindi lui passa dai 600.000 punti base ai 670.000, che sono un valore degno di qualunque applicazione Android per girare quanto meglio possibile. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Apriamo i nostri tastini. Sì, lasciamoli aperti. Ok. Questo tastino, in modalità in-game, può essere poi fatto funzionare dando una funzione specifica. In questo caso, per Asphalt, il gioco arcade di Android assolutamente più... Alziamo il volume, va? Apriamone una a caso, giusto per farvi vedere come va. Grazie alla personalizzazione, che in verità dovrebbe essere migliorata. Che casino, abbassiamo un po', va? Ok. In questo modo, io posso scegliere un tasto per accelerare e mettere il turbo, come vedete, e un altro per frenare e sgommare. Vedete? Col tastino. In questo modo, capirete che il controllo è veramente diventa simile a quello di una console portatile. Quindi, hanno reso davvero uno smartphone gaming ad un livello superiore. Credo che questa idea... Eh vabbè, mi sono schiantato, ma qua sono una sega io, non è colpa del telefono. L'hanno portato a un livello assolutamente superiore. E credo che questa idea di Xiaomi verrà rubata da molti altri. Vi faccio un altro esempio. Ho programmato Call of Duty Mobile in modo che uno dei due tastini serva per mirare e uno degli altri tastini serva per sparare. È una cosa fondamentale. Poi, rispetto agli altri Black Shark, che non avevano mai puntato tutto sullo schermo, in questo caso lo schermo è assolutamente eccezionale. Adesso vi faccio vedere una cosetta. Usciamo dal gioco. Usciamo dalla modalità come si chiama lei, Shark Space. Innanzitutto andiamo su YouTube e vediamo il nostro 4K HDR e ci vediamo il nostro filmato. Aumentiamo anche l'audio così che... Schermo AMOLED prodotto da Samsung. 144 Hz di frequenza. Audio stereo. La qualità di questo schermo è fenomenale. Va bene. Come fotocamera. Sembra un po' Bender da dietro, eh. C'ha tre fotocamere. La principale è una... Non... Credo che sia... Vediamo. Tra l'altro si può utilizzare, ce lo ricorda, il Master Trigger per scattare la foto. Il che migliora anche la situazione. Questa è una foto fatta dal telefono. Niente male. Anche se, ripeto, questo non è un camera phone. Questo sono io dalla telecamera. Dei selfie. Questo simpatico punch hole è questa. Vabbè, ero io che provavo l'emulatore della PlayStation 3 con Daytona. Non è un camera phone, ma le foto le sa fare. Inoltre, inoltre, non ho fatto l'unboxing della confezione. Ah, tra l'altro Iris Audio certificato. Ce ne siamo accorti che l'audio è potente, si sente molto bene. Vi era dentro questa simpatica coverina. Poi, 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 poi. Game is real, ok. Qua dentro c'è questo bel caricatore. Caricatore europeo da 67 W. Vi permette di ricaricare il telefono in circa 35 minuti del tutto. Ma la cosa meravigliosa è che, in realtà, questo smartphone supporta fino a 120 W di ricarica. Questo significa, sostanzialmente, Beh, significa che potete ricaricare il vostro telefono in appena 17 minuti. 17 minuti. E per quanto riguarda, poi, il mondo dell'emulazione, anche in questo caso, se la cava benissimo, vi posso dire che, per quanto riguarda il mondo, il mondo Android, forse l'esperienza migliore è quella che si ottiene fino al Gamecube. Non di più. Però, se la cava comunque molto, molto bene. Come vedete, ci ho messo molto poco a partire. Come vedete, non ci possiamo lamentare. Allora, qual è il punto focale di questo telefono? Questo telefono, che, tra l'altro, con questa linea così, non eccessivamente aggressiva, credo che sia una linea trasversale che può andare bene un po' per tutti. Anche per chi vuole un telefono normale. E non per forza un gaming phone pieno di LED. Questo i LED non ce li ha. Quindi, linea di massima, ma può anche andare bene. Ah, tra l'altro, per risparmiare hanno tolto il sensore sotto al vetro, ma l'hanno messo di lato sul tasto di sblocco. Guardate quant'è. È qualche cosa di velocissimo. È meraviglioso. Quindi, ricapitolando. La potenza non è il più potente sul mercato, ma ne ha da vendere. E potete personalizzarla punto per punto per ogni applicazione, in modo da poter fargli risparmiare la batteria quando serve in maniera intelligente. Master trigger per giocare o per utilizzarli per fare altre cose, tipo per fare le foto, se volete. Ricarica velocissima, appunto, da poter ricaricare in 17 minuti il telefono. Io, e soprattutto, questo telefono, al momento, si trova tra i 380 euro e i 400 euro. Se pensate che l'alternativa del ROG Phone parte da un prezzo almeno del doppio, fino ad arrivare ai 1300 euro, capirete che, non dico che costa i dispari, ma quasi. Sì, secondo me, questa è la scelta migliore di questo 2021. E va bene, se avete dubbi, sono qui. Scrivete nei commenti, sono pronto a rispondere. Mettete like, iscrivetemi, che siamo vicini alla monetizzazione. Non lo vorrei dire, ma... Questo rimane un fantastico e simpaticissimo hobby. E niente, io sono qui. Ciao a tutti!